prego dicevano che era diventato un uomo assisto sembra che stasera si abbattava un po' la situazione diciamo che inizialmente ho avuto più difficoltà a riuscire ad arrivare alla conclusione in porta quindi mi sono messo un po' a disposizione della squadra però ero consapevole che col tempo i gol sarebbero arrivati e per sfortuna della ternana proprio oggi due gol voluti costruiti perché anche quella valla andare a prendere il rigore si è stata l'azione che ha cambiato tutto dai ci ho creduto fino alla fine sono stato pure bravo a prendere il rigore quindi è stato lì che è cambiata la partita nel nostro senso. Avete preso coraggio praticamente e preso un po' il dominio? No diciamo che a livello di gioco diciamo che il possesso l'abbiamo tenuto maggior parte noi del tempo Chiara e la ternana giocavano molto sulla transizione sulla nostra perdita della palla e riuscivano a trovare spazi più facilmente poi in avanti col tempo poi era difficile per noi comunque erano schiacciati tutti sulla linea dell'area quindi trovare le giocate per riuscire a segnare era difficile solo una giocata così poteva cambiare l'inerza della partita. Il risotto che ha cambiato la partita è stato sicuramente il rigore è l'ennesimo rigore contro la ternana il par ha chiarito insomma che comunque la decisione è stata giusta ecco visto che hai guadagnato tutto ma dal campo ero consapevole che fosse rigore poi dicevano ti sei buttato male ho capito però l'ho toccata io la palla e poi lui mi ha preso quindi è stata quella la cosa ero consapevole subito che fosse rigore. Il Genova è una squadra che vince in trasferta ma questa è una vittoria particolare perché la vale sotto, la vale in difficoltà in un ambiente tutto stocato contro la squadra prima in classifica cambia qualcosa e non cambia la nota il Genova. Infatti è stato un po' lo specchio della partita che abbiamo perso a Palermo stava succedendo un po' la stessa cosa e per fortuna c'è stata questa reazione e sicuramente questa è una vittoria che ci può spianare la strada per le prossime partite è chiaro che dobbiamo stare calmi perché saranno tutte di questo tipo le partite in Serie B. A inizio anno si spera questo poi c'è tempo grazie